In sette giorni, Dio creò il mondo, in sette secondi, io ho distrutto il mio. Ken Anderson, Nicola Anderson, Ellie Anderson, Ed Rice, Stephen Phillips, Monica Freeman, Sarah Jensen. Un nome, qualcuno nel tuo computer, qualcuno che se la passa male davvero, che ha bisogno d'aiuto ma è troppo orgoglioso per chiederlo agli altri. Che cosa vuoi fare? Dare una mano. A volte mi domando quanto sia giusto. Smettila, abbiamo un patto, lo so. Fa quello che mi hai promesso, lo farò. Sì. Ven. Ci siamo. Ti voglio bene. In sette giorni, Dio creò il mondo. C'è stato un ricidio. Chi è la ritima? Io. C'è stato un ricidio.